La nostra parola chiave è Franco Tosi, un imprenditore che ha fatto la storia della nostra città, Legnano, la Manchester d'Italia, come veniva chiamata negli anni Sessanta a causa dell'eccessivo inquinamento. Questa ricerca ci conduce ad un'immagine che mostra la salapompe dell'impianto idroforo di Fossolo. Ma di che cosa si tratta? Abbiamo trovato un riferimento al sito Lombardia Beni Culturali. L'impianto è stato realizzato nel 1920 ed ha consentito la bonifica di un ampio territorio nel Cremonisi-Montovano. Questo sistema ha permesso di prosciugare terreni paludosi e renderli produttivi ed in grado di accogliere gli insediamenti di popolazioni agricole. L'edificio, essenziale ed elegante, presenta la struttura Liberty, caratteristica dell'epoca. Tutte queste opere, utili per la difesa idraulica del territorio e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, confluiscono in un grande progetto diretto da Agricoltura, Cultura e Territorio della Regione Lombardia. Gli obiettivi sono molteplici. La difesa del suolo, l'irrigazione, la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, la conservazione della memoria storica e la promozione della conoscenza del territorio. Fanno parte del progetto 15 impianti di bonifica, 6 navigli e canali, 8 fontanili, 7 musei della bonifica e una campagna fotografica. Tutte le attività realizzate fanno riferimento alla cosiddetta civiltà dell'acqua, che propone una rilettura della storia del territorio a partire dai corsi d'acqua che costituiscono il bacino idrico della Lombardia. È una grande operazione culturale che si prefigge di diffondere una visione di sviluppo sostenibile per il futuro attraverso il recupero del passato. Ritornando al periodo storico in cui la nostra pompa è stata costruita, gli anni 20, realizziamo che anche allora si poteva parlare di civiltà dell'acqua. Infatti, tutto lo sviluppo industriale e tecnologico della realtà legnanese è nato intorno al fiume Olona, ai mulini, alla forza dell'acqua utilizzata come fonte di energia. In passato, questo è stato fatto senza rispettare il fiume e l'ambiente, inquinando e abusando delle risorse disponibili. Ma la vecchia immagine ci ha condotto attraverso la rete e ci ha fatto capire che le cose stanno cambiando. Grazie all'eredità di Franco Tosi, le prossime generazioni potranno immaginare e realizzare uno sviluppo produttivo finalmente sostenibile. Uno, due, tre! Grazie! Grazie! Grazie!